Quello che mi chiedo io, perché di tutti questi esseri mitologici i nani no? Perché c'è questo odio... Ma come no? L'ho detto i nani! I nani, sì, ma lei negli ultimi concerti ha sempre detto i nani no, non mi parlate dei nani. Perché c'è questo odio verso i nani? Ma non c'è un odio verso i nani! Non mi parlate dei nani! Forse sarà una battuta quella. Ah, ho capito. Non mi parlate dei nani! No, perché io a un certo momento dico i gobelini! Gobelini! I koboldi! Koboldi! Gli elfi! Elfi! Gli eoni! Eoni! La mandragola! La mandragola! Il fico sacro! Il fico sacro! Le ossa dei morti che si lanciano contro il nemico! Le ossa dei morti che si tirano contro il nemico! Ma a un certo momento dico anche i nani! I nani! Poi magari in un concerto mi scappa ma i nani no! 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 I nani no!